Al di là di tanti annunci, tanti spot, nero su bianco il piano delle opere pubbliche 2023-2025 parla e vediamo che nel totale delle risorse solo l'8% arriverà nella provincia di Pesaro-Urbino. Mancano tantissimi interventi che invece attendevamo in questi ultimi anni, a partire dalla difesa del suolo, le infrastrutture e per ciò che riguarda l'edilizia sanitaria ci stupisce vedere che non ci sia assolutamente nulla per la provincia di Pesaro-Urbino. A differenza ad esempio di Ancona, Macerata, Ascoli Piceno e Fermo e in particolare nella nostra provincia, questo 8% sarà nel triennio 24 milioni di euro circa, solo briciole, cioè un investimento irrisorio rispetto ad esempio ai 145 milioni di euro della provincia di Macerata. Siamo in assoluto la più penalizzata insieme a quella di Ascoli Piceno e ci stupisce anche vedere in questo piano, dove ci sono quelle opere che hanno già dei progetti, vedere che invece ci siano quelli che dovevano essere già avviati, ad esempio la difesa della costa nel fiume Foglia, nella zona di Valle Foglia. Questo ancora è un intervento non iniziato che appare di nuovo nel piano triennale delle opere pubbliche, mentre mancano tutte quelle strade che la giunta Quaroli-Baldelli ha annunciato negli ultimi anni. Una totale incapacità di progettazione e al di là, ripeto, di ogni annuncio, il piano parla chiaramente, come potete vedere dalle cifre, nella nostra provincia arriveranno, comprese le somme che attendono ancora di reperire, solo poco più di 24 milioni di euro su un totale di 294 milioni di euro previsti per tutta la regione. Gli annunci che sono stati fatti in questi anni sono stati tanti e i lavori sono pochi. Basta pensare che nel piano triennale delle opere pubbliche attualmente ancora non sono stati inseriti né l'ospedale di Pesero, parlo del nuovo ospedale, né le case di comunità e né gli ospedali di comunità. Ovviamente non potevano essere inseriti perché non ci sono neppure i progetti preliminari. Parliamo di progetti annunciati ormai qualche anno fa, addirittura con convenzioni di mesi fa, progetti che sono attualmente fuori dal piano delle opere pubbliche e quindi, come dire, i tempi saranno sicuramente lunghi perché non c'è neppure il progetto preliminare. Dall'altra parte non ci sono infrastrutture annunciate più volte, come ad esempio l'intervalliva Fossombrone-Pergola o l'altra strada, la Pedemontana di Carpegna. Cioè questo è un governo che annuncia, che fa i progetti, in realtà i progetti non ci sono e quindi nel piano delle opere pubbliche, che è un piano dove possono entrare solamente quei progetti dove c'è almeno il progetto preliminare. Dall'altra parte invece ci sono, ricordo che loro governano da tre anni, quindi non è che governano da ieri mattina. E ancora ci sono opere pubbliche che avevamo messo noi nel piano latrinale delle opere pubbliche perché avevamo fatto fare i progetti preliminari. Basta pensare alla Cassia di espansione di Fiumefoglia, quella a Vallefoglia e quella a Monte Calvo. Ancora c'è l'intervento di riqualificazione per il 118 e la SOI, quello legato all'emergenza, e ancora lo ritroviamo nel piano delle opere pubbliche, come ritroviamo ancora la ciclovia del Metauro che doveva essere iniziata ormai già da mesi e non troviamo più per niente la ciclovia del Foglia, in particolare il tratto che collega Pesero a Montecco. Ovviamente non c'è perché ancora il progetto non è stato approvato e quindi non è possibile inserirlo. Quindi un piano che penalizza la provincia di Pesero Urbino, complessivamente appena l'8% dei finanziamenti, l'8% sul totale, sono attualmente inseriti nel piano per quanto riguarda la provincia di Pesero Urbino con opere che dovevano già esserci e che non ci sono, con opere che non ci dovevano essere perché dovevano già essere iniziati che ancora sono previste nel triennale. Quindi vuol dire che non partiranno neppure nel 2023 ma non si sa quando partiranno.